Grande successo per la seconda edizione del PDS Awards. Per una serata il Palacaudium di Cervinara si è trasformato nella Congress House di Zurigo. Il messi di turno è stato Vincenzo De Rosa, centrocampista del Paolisi, che ha ricevuto il premio di The Best Player, ovvero il vincitore assoluto dell'evento. Tanti riconoscimenti assegnati. A Silvio D'Andrea, attaccante del Paolisi, è stato assegnato quello di Rivelazione Sarrita. Il miglior ilpino invece è stato Simone Cioffi, bandiera del Cervinara. Sempre nel club Caudino c'è Sanna Contè, giovane centrocampista, che dal 15 luglio sarà in ritiro con l'Avellino, che ha vinto invece il pallone d'oro degli under. I più amati dal pubblico sono stati Vincenzo Liccardi, attaccante del Montesarchio, che è stato il calciatore più presente in assoluto nella top 11, settimanalmente votata dai telespettatori. Mario Di Benedetto invece è stato l'under più schierato ed infine, ma non per minore importanza, Nicola Facchino da ieri può essere considerato il Luiz Enrique dei tecnici presenti nel panorama Erpino Sannita. Tanti curiosi accorsi all'evento che, anche se solo alla seconda edizione, ha regalato sorrisi e soddisfazioni a coloro che possono essere considerati la vera essenza di un calcio che, impropriamente, viene definito minore.